Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto ricevitori e amplificatori AV-AV Concept Productions. Descrizione del prodotto AV-Concept Productionsma 20 BTG Pico 2000 Silve Connessione Jack Potenza audio 20 Watt Amplificatore Ibrido Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.